voi bentornati sul mio umile divano oggi siamo qui perché nonostante la mia vergognosa frequenza di pubblicazione pengood continua a insistere per inviarmi roba gratis e io sono troppo accattona per rifiutare quindi ora mi tocca farvela vedere faccio un piccolo off topic prima di partire volevo ringraziare tutti quanti quelli che mi hanno riconosciuta fermata chiesto una foto ho fatto due chiacchiere con me al comicon di napoli si ero al comicon scusate se non vi avvertiti ma mi piace farmi i cazzi miei però sono stata contenta di aver incontrato qualcuno di voi mi avete fatto un sacco di complimenti moltissimi mi hanno detto di aver iniziato a guardare lu paul grazie a me e questo credo che sia il servizio più grande che abbia mai reso all'umanità quindi vi ringrazio è stato davvero davvero un'accoglienza calorosa anche se inaspettata ecco detto questo passiamo alle cose serie oggi abbiamo qui una scatoletta marrone non so se capita anche a voi ma ogni volta che io ordino qualcosa dai 16 mesi visto che le spedizioni ci mettono mesi e mesi ad arrivare puntualmente mi dimentico che cosa ho ordinato e quindi ogni volta sono tipo chissà che cosa mi ha regalato la chiara del passato what the fuck is this ah sì questo è un teschietto da appendere con un buchino per metterci dentro i fiori ha una testa enorme sto coso totally looks like poi ho preso wow non so aprire le cose come mi conosco bene start upon the bottom now we here soldi spesi bene ah no non li ho spesi poi che bello mi sono regalato un gudetama che carino guardate non vedete un cat cavolo questo è un bellissimo esemplare di gudetama spiaggiato non so se da lì si riesce a vedere ma totally worth it già solo per il putty next ho preso un anellino oddio mi va mi sento benedetta mamma guardami come tensing è un anellino a forma di occhio che avevo preso essenzialmente perché da qualche parte dovrei avere un orecchino intonato però spero di ritrovarlo prima o poi poi ho due bicchieri a forma di coda di sirena ne ho presi due perché spero sempre di avere compagnia quando decido di ubriacarmi con dei bicchieri trendy vediamo un po wow oh mio dio sono bellissimi no acquisto consigliatissimo questo o mio dio quanto sono estetic sono felicissima mi sono fatta un regalo bellissimo per finire questo dovrebbe essere l'ultimo ed è un cosino per fare tatuaggi all'enne non so perché l'abbia preso probabilmente mi avanzava tipo un euro allora detto ehi che cosa costa un euro su banggood sfruttiamo tutto quanto il buono fino all'ultimo ma vedrò di farlo fruttare a dovere detto questo qualche rapido aggiornamento sto lavorando sul nuovo video di dragon age dopo tipo più di un anno dal primo in realtà l'ho registrato una vita fa però non ho mai tempo di mettermi a montarlo fatemi mettere i miei occhiali da intellettuale spero che non vi siate annoiati troppo voglio salutarvi così ciao due, tre, four